continuiamo la nostra preghiera con la via crucis o dio vieni a salvarci signore vieni presto in nostro aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo com'era nel principio ora sempre nei secoli dei secoli amen chi mi vuol seguire prenda ogni giorno la sua croce e mi segua allora proviamo a portare insieme con Gesù la croce di oggi e raccontiamo la raccontiamo a Maria nostra madre padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen secondo stazione secondo chiodino ultimo che raccontiamo a Maria nostra madre delle difficoltà che oggi pensiamo di affrontare quindi Grazie a tutti. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Terza stazione, portiamo a Maria qualcuno che noi sappiamo che è nella prova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Andiamo a prendere il messaggio della Regina della Pace. Cari figli, l'Altissimo e l'Onnipotente mi permette di stare con voi, di essere la vostra gioia e la vostra via di speranza. Maria, nostra gioia e nostra speranza, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ecco, nella sua salita al Calvario Gesù incontra delle figure che lo aiutano. La veronica, il Cireneo che gli porta la croce e le persone che sono vicino a lui, l'Apostolo Giovanni, Maria Maddalena, anche noi nelle nostre vie crucis. La provvidenza dispone le persone che sono un aiuto a fare il nostro cammino, a fare il nostro Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Gesù ha accolto con gratitudine l'aiuto che queste persone gli offrivano alla Veronica che gli asciugava il volto, ha lasciato impresso la sua immagine a ricordo e come dono e come consolazione. A Giovanni ha donato la sua madre sotto la croce. Anche noi dobbiamo accogliere con gratitudine gli aiuti che il Signore ci manda lungo il nostro calvario. Può essere un medico, può essere un amico, può essere... Le figure le dispone il cielo in base al cammino che dobbiamo fare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ma l'aiuto più grande che Gesù ha avuto è stato quello della presenza di Maria, che ha condiviso in tutto quella croce dal punto di vista spirituale, psicologico, affettivo, fisico. Perché quando muore Gesù sulla croce una lancia trafigge il cuore di Maria, sperimenta la morte. Tanto era unita a Gesù, ha portato anche lei quella croce e così Maria aiuta ciascuno dei suoi figli a portare la propria croce. Se la donata dice l'Altissimo mi permette di stare con voi, di essere la vostra gioia e la vostra via di speranza e portare la croce insieme a questa mamma, le nostre croci si alleggeriscono immediatamente. Ma di tanto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un'altra grande via alla risurrezione è farci noi stessi, Cirenei, aiuto a coloro che sono sulla croce. Quando la provvidenza ci chiama ad essere aiuto a coloro che stanno percorrendo il calvario, ecco che quell'aiuto si trasforma anche per noi in una via alla risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Chiediamo una grazia per la nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo una grazia per le persone che in questo momento ci vengono in mente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per tutti gli apostoli della pace, chiediamo di accogliere con gratitudine Maria come aiuto e chiediamo di saper essere, di dare il nostro aiuto, come il Cireneo, quando la provvidenza ce lo chiede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, benedica tutte le persone che gli abbiamo portato con la nostra preghiera. Benedica tutti gli Apostoli della pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ricordo che oggi pomeriggio, alle 15, faremo la Via Crucis completa. Buona giornata a tutti voi. Grazie Padre, anche a lei. Grazie.